Nuovo e importante appuntamento domani sera con la rassegna Libri sotto le stelle promossa dalla libreria Mondadori di Sciacca e inserita nel cartellone degli eventi estivi. Alle ore 21 alla Lega Navale il docente universitario, regista e sceneggiatore Salvatore Maira presenterà il suo ultimo libro dal titolo Topografia di un delitto, edito da Bompiani, dedicato all'omicidio del segretario della Camera del Lavoro di Sciacca, Cursio Miraglia, avvenuto la sera del 4 gennaio del 1947. Un libro che ripercorre gli ultimi giorni che precedettero il delitto ma che ricostruisce dettagliatamente anche le fasi dell'omicidio del sindacalista Saccenzi avvenuto sull'uscio di casa. Quella condotta da Salvatore Maira è una indagine sulle indagini e anche sui depistaggi che si registrarono. A seguito della pubblicazione nel 2001 degli atti della Commissione parlamentare antimafia, l'autore ricostruisce gli eventi che precedettero l'omicidio e le indagini che seguirono, conducendo elettori all'interno di un percorso storico e politico nella Sicilia del dopoguerra, ed individuando i presunti killer e i mandanti, tra indagini poliziesche, battaglie per i latifondi, tentativi di depistaggio, incomprensibili proscioglimenti e trame golpistiche che culminano nella strage di Portella della Ginestra. Un libro che non tralascia di evidenziare la grande personalità di Accursio Miraglia, i suoi innumerevoli impegni lavorativi e sociali, i suoi affetti, la sua famiglia. Salvatore Maira si è avvalso, peraltro, del significativo contributo di Nico Miraglia, con il figlio del sindacalista ucciso dalla mafia, ripercorre i luoghi, rievoca le situazioni di quel 1947. A dialogare con l'autore, domani sera alla Lega Navale, saranno il procuratore capo della Repubblica di Gela, Salvatore Vella, e il notaio Francesco Raso.